Gli opposti impulsi della natura e della grazia. Figlio, considera attentamente gli impulsi della natura e quelli della grazia. Come si muovono in modo nettamente contrario, ma così sottilmente che soltanto e a fatica, li distingue uno che sia illuminato da interiore spiritualità. Tutti, in vero, desiderano il bene e con le loro parole e le loro azioni tendono a qualcosa di buono. Ma appunto per una falsa apparenza del bene, molti sono ingannati. La natura è scaltra, trascina molta gente, seduce, inganna e mira sempre a se stessa. La grazia, invece, cammina schietta, evita il male, sotto qualunque aspetto esso appaia, non prepara intrighi, tutto fa soltanto per amore di Dio nel quale, alla fine, trova la sua quiete. La natura non vuole morire, non vuole essere soffocata e vinta, non vuole essere schiacciata, sopraffatta o sottomessa, né mettersi da sé sotto il gioco. La grazia, invece, tende alla mortificazione di sé e resiste alla sensualità. Desidera e cerca di essere sottomessa e vinta. Non vuole avere una sua libertà, preferisce essere tenuta sotto disciplina. Non vuole prevalere su alcuno, ma vuole sempre vivere restando sottoposta a Dio. E' pronta a cedere umilmente a ogni creatura umana per amore di Dio. La natura s'affanna per il suo vantaggio e bada all'utile che le possa venire da altri. La grazia, invece, tiene conto di ciò che giova agli altri, non del profitto e dell'interesse propri. La natura gradisce onori e omaggi. La grazia, invece, ogni onore e ogni lode, li attribuisce a Dio. La natura rifugge dalla vergogna e dal disprezzo. La grazia, invece, si rallegra di patire oltraggi nel nome di Gesù. La natura inclina all'ozio e alla tranquillità materiale. La grazia, invece, non può stare oziosa e accetta con piacere la fatica. La natura mira a possedere cose rare e belle mentre detesta quelle spregevoli e grossolane. La grazia, invece, si compiace di ciò che è semplice e modesto. non disprezza le cose rozze né rifugge dal vestire logori panni. La natura guarda alle cose di questo tempo, gioisce dei guadagni e si rattrista delle perdite di quaggiù. Si adira per una piccola parola offensiva. La grazia, invece, non sta attaccata all'oggi ma guarda all'eternità. Non si agita per la perdita di cose materiali. Non si inasprisce per una parola un po' brusca perché il suo tesoro e la sua gioia li pone nel cielo dove nulla perisce. La natura è avida. Preferisce prendere che donare. Accaro ciò che è proprio e personale. La grazia, invece, è caritatevole e aperta agli altri. Rifugge dalle cose personali. Si contenta del poco. Ritiene più bello dare che ricevere. La natura tende alle creature e al proprio corpo, alle vanità e alle chiacchiere. La grazia, invece, si volge a Dio e alle virtù. Rinuncia alle creature. Fugge il mondo. Ha in orrore i desideri della carne. Frena il desiderio di andare di qua e di là. Si vergogna di comparire in pubblico. La natura gode volentieri di qualche svago esteriore nel quale trovino piacere i sensi. La grazia, invece, cerca consolazione soltanto in Dio e al di sopra di ogni cosa di questo mondo mira a godere del sommo bene. La natura tutto fa per il proprio guadagno e il proprio vantaggio. non può fare nulla senza ricevere nulla. Per ogni favore spera di conseguirne uno uguale o più grande oppure di ricevere lodi e approvazioni. Desidera ardentemente che i suoi gesti e i suoi doni siano molto apprezzati. La grazia, invece, non cerca nulla che sia passeggero e non chiede come ricompensa altro premio che Dio soltanto. Delle cose necessarie in questa vita non vuole avere più di quanto le possa essere utile a conseguire le cose eterne. La natura si compiace di annoverare molte amicizie e parentele. Si vanta della provenienza da un luogo celebre o della discendenza da nobile stirpe. Sorride ai potenti. Corteggia i ricchi ed applaude chi è come lei. La grazia, invece, ama anche i nemici. Non si esalta per la quantità degli amici. Non dà importanza al luogo di origine o alla famiglia da cui discende a meno che in essa vi sia una virtù superiore. È ben disposta verso il povero più che verso il ricco. Simpatizza maggiormente con la povera gente che con i potenti. Sta volentieri con le persone sincere non già con gli ipocriti. Esorta sempre le anime buone ad ambire a doni spirituali sempre più grandi così da assomigliare per le loro virtù al figlio di Dio. La natura di qualcosa che manchi o che dia noia subito si lamenta. La grazia sopporta con fermezza ogni privazione. La natura riferisce tutto a sé lotta per sé discute per sé. La grazia, invece, riconduce tutte le cose a Dio da cui provengono come dalla loro origine. Nulla di buono attribuisce a sé stessa. Non presume di sé con superbia non contende non pone l'opinione propria avanti alle altre. Anzi, si sottomette in ogni suo sentimento e in ogni suo pensiero all'eterna sapienza e al giudizio di Dio. La natura è avida di conoscere cose segrete e vuol sapere ogni novità. Ama uscire fuori per fare molte esperienze. Desidera distinguersi e darsi da fare in modo che ad essa possa venirne lode e ammirazione. La grazia, invece, non si preoccupa di apprendere novità e curiosità perché tutto il nuovo nasce da una trasformazione del vecchio. non essendoci mai su questa terra nulla che sia nuovo e duraturo. La grazia insegna dunque a tenere a freno i sensi, a evitare la vana compiacenza e l'ostentazione, a tenere umilmente nascosto ciò che sarebbe degno di lode e di ammirazione. Infine, attendere in tutte le nostre azioni e i nostri studi al vero profitto, alla lode e alla gloria di Dio. Non vuol far parlare di sé e delle cose sue, desiderando, invece, che in tutti i suoi doni sia lodato il Dio, che tutto elargisce per puro amore. Ecco d'esta grazia, una luce sovrannaturale, propriamente un dono particolare di Dio, un segno distintivo degli eletti, una garanzia della salvezza eterna. La grazia innalza l'uomo dalle cose terrestri all'amore del cielo e lo trasforma da carnale in spirituale. Adunque, quanto più si tiene in freno e si vince la natura, tanta maggior grazia viene infusa in noi. Così, per mezzo di continue e nuove manifestazioni divine, l'uomo interiore si trasforma secondo l'immagine di Dio. 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 di Dio.